Tu hai iniziato in Sicilia, chi ti conosce sa che tu sei stato nelle radio, nelle tv nostre e poi la carriera. Sì, io facevo dei giochi in Sicilia, di conseguenza mi piaceva farlo e ho molti amici che ancora oggi si dedicano alla musica e sono contento che loro hanno continuato su quel ramo e ogni tanto anche a me viene la nostalgia di fare qualcosa. Ma chissà, prima o poi magari torni a prendere i tuoi vinili. Conservi ancora i vinili? A voi, ho tantissimi vinili a casa dove li conservo e come? Gelosamente. Senti, sempre per la faccenda della Sicilia, è vero che è un valore aggiunto? Molti mi dicono sempre queste cose. No, no, questa è fantascienza. C'è chi è adatto a fare delle cose, c'è chi non è adatto. In Sicilia magari ne troviamo di più perché si lavora di meno, ecco. E allora di conseguenza la gente si propone a fare altre cose. I tempi sono serratissimi durante il festival, le fasce pubblicitarie in quei tempi lì voi dovete fare tutto. Esatto. C'è mai, ce l'hai mai l'ansia, no? Come fai a coordinare tutto questo senza l'ansia di dire caspita siamo in ritardo? Eh questo, il problema è solo questo perché la televisione si vende a secondi, a minuti. Il tempo che si perde non si può recuperare, di conseguenza più si sbaglia con la pubblicità meno in cassa. Chiaramente, la televisione. Senti mi racconti un aneddoto, qualcosa che ci puoi raccontare, un ricordo con un conduttore piuttosto che con un altro? Quando mi fanno questa domanda io avrei tanti e poi alla fine uno gli si annebbia la mente. Sicuramente, non so, per farti capire quanti anni hai che sono qua. Sì, adesso te lo stavo per chiedere. Nell'81 ho iniziato a fare questo lavoro e una cosa che mi è rimasta ben impressa è, non so se ti ricordi, ma si usavano ancora i microfoni, quelli col filo. Come? Certo. E questo microfono col filo era stato dato a... Grande Vasco. Esatto. Allora lui entrò con questo microfono, poi alla fine finì, si è esibito, ha fatto il brano e la sala ha fatto un grande applauso. Lui prese il microfono, se lo ha messo in tasca e se ne andò. A un certo momento il filo è arrivato là ed è scappato questo microfono, è saltato fuori, è fatto un botto che la gente... Aiuto! Questa è una delle tante, ma poi Paul McCartney, Queen, ci sono tante, tanta gente in passata, Barry White, un sacco di gente, specialmente per noi DJ... Miti sacri! Senti, il conduttore con cui hai avuto più feeling? Il conduttore che ho avuto più feeling è stato Pippo Baudo, perché con Baudo, diciamo, tra virgolette, lui è stato il grande pioniere dei conduttori e io mi abbinavo spesso con lui, di conseguenza ho un grande feeling con Pippo. Ancora oggi, ancora oggi, ancora oggi. Allora, lo dico ai siciliani che ci stanno seguendo, che sono tanti su Blog Sicilia e Casa Minutella, raccontiamo che Pippo però torna sempre nella sua aspra. Sì, quello sì. Io sono nato a Palermo, però ho sempre abitato ad Aspra e di conseguenza ho sempre viaggiato e ritornato a casa.